ciao a tutti ragazzi e ragazzi ricordati su fortnite e oggi come vi ho detto nel video di lego fortnite oggi andiamo a provare la nuova modalità rocket racing vedremo se anche questa modalità somiglierà per esempio a mario kart bo chi lo sa vedremo quindi ragazzi sta per partire la partita vediamo quali aspettative posso avere non lo so sinceramente perché sinceramente io non ho mai giocato roba di league quindi non so come possa essere questa modalità vedremo vedremo un attimo io ho completato il carico il carico cos'è sta roba ma sei su e ti sbattono fuori ok a figo se prendici poi prendi velocità siamo online tra l'altro con altri giocatori terzo per un pelo sferato il secondo posto e devo dire che su 12 giocatori comunque non è male allora ragazzi cosa dire modalità sì carina carina però se devo scegliere tra questa e la modalità lego vado a scegliere assolutamente la modalità lego come detto secondo me è una modalità da so sei e mezzo secondo me c'è qualcosa ancora da migliorare non è una brutta modalità magari ripeto un giudizio assolutamente personale quindi magari se vi piacciono i giochi di corse magari voi gli date otto però la sufficienza ecco niente di più tra l'altro se non avessi sbagliato lì all'inizio e diciamo subito sopra in cielo forse si arriva anche arrivato ancora meglio come piazzamento però fa niente importante da provare in modalità ovviamente magari non so se ci sono nuove piste io l'ho provata così alla buona alla veloce questo è comunque il mio giudizio su rocket racing like questo video iscrivetevi e alla prossima ciao